Lusingati, onorati e godere di un premio che spero meritato, ma che certamente mi lusinga. Il fatto che corrisponde alla realtà, che racconta la realtà che è legata all'evoluzione del sociale del Paese in modo definitivo e questo è frutto di un lavoro fatto all'inizio del programma, con un gruppo di studiosi del Censis e professori di università, perché prima di fare bisogna studiare. Non è completamente cambiata, bisogna adeguarsi ai vari strumenti e capire sempre che la comunicazione ha senso quando si ha qualcosa da dire, con qualunque linguaggio si usi. Tutto è possibile, perché sono i cicli nella vita. Grazie.